Gaia, terzo posto, la freccia, era una sorpresa per te o ti aspetti molto di più oggi? No, sicuramente il terzo posto è stata una sorpresa, anche se la squadra comunque puntava molto su di me, perché comunque la gara era adatta a me e oggi non mi aspetto nulla, mi metto a completa disposizione della squadra e vediamo cosa succede. Quale sarà la strategia per andare avanti contro la SD World, se sembra la più talentosa squadra della corsa, della gara? Beh, sicuramente la tattica sarà quella di controllare e di non lasciarne andare via, quindi vedremo cosa succederà e noi come squadra ci adatteremo.